Carletto, ma mi segui e chiacchieri? Dove vuoi andare? Carletto? Miau, Carletto, vieni. Ritorna qui dentro, forza. Vieni, andiamo, vieni. Perché Miau? Chi c'è Miau? Miau. Eh. Come chiacchieri oggi, forza. Che è? Carletto? Carletto, dai. Che è? Forza, andiamo. Carletto? Andiamo. Ritorniamo dentro che è più tranquillo, forza. Ehi, Carletto, lo vedo che mi senti? C'è le orecchie dietro, quindi mi stai a sentire. Allora.